Ciao ragazzi, sono in vacanza però ho visto Bologna-Juve quindi posso commentarvela un attimo al volo Allora la Juve ha meritato la partita, l'ha meritata perché giustamente hanno fatto più pressione del Bologna e hanno giocato meglio Davanti mi sono piaciuti sia Dybala che Ronaldo che soprattutto Bernadeschi che è stata una piacevole nota positiva diciamo, già si era visto un pochino in Coppa comunque e davanti la Juve mi è piaciuta Dietro, però dietro, Shevny e De Ligt io ho contato almeno 6 o 7 errori tra di loro veramente plateali cioè passaggi sbagliati di Shevny a De Ligt e viceversa soprattutto subito in avvio di partita De Ligt a momenti stava involando l'attaccante non si erano capiti bene tra Shevny e De Ligt e vabbè poi sul primo rigore della Juve io ho qualche dubbio, nel senso che un po' il fallo c'era però secondo me De Ligt non avrebbe comunque beccato quel pallone poi comunque volendo si poteva dare quel rigore Denzil lì è stato molto diciamo ingenuo perché se tu vuoi tenere un po' fuori dall'aria un attaccante gli appoggi un braccio al petto non è che lo devi strattonare in quel modo così evidente anche se, vabbè, un rigore un po' così così il gol, il secondo, il gol di Dybala lì è stata una grande apertura di Bernardeschi di Tacco, Dybala è insaccato da fuori, niente da dire nel Bologna diciamo che quello che era più in palla probabilmente era Medel che faceva dei grandi interventi ha giocato anche bene Barro mi hanno stupito, diciamo, i giovani entrati Cangiano, Juara loro hanno giocato molto bene secondo me ecco, da qui ti dovresti far chiedere ma perché non farli giocare un po' di più? un po' in più, perché Denzil gioca? l'anno del Bologna, perché gioca a Denzil? dai mo, cioè alla fine potresti mettere su Corbo delle giovanili che secondo me sarebbe comunque una scelta migliore vabbè, questo era un mio commentino così al volo se questo video ti è piaciuto vi chiedo di lasciarmi un like e di iscriverti al mio canale ciao ragazzi, ci vediamo domenica per la Radio Cronaca ciao